ciao a tutti e benvenuto all'ottavo episodio del pagellone da 0 a 10 dell'ottava giornata di serie a oggi tramite dei voti andremo ad analizzare l'ultima giornata la giornata dopo la pausa nazionale e quindi detto questo iniziamo subito voto zero al parma parma ancora troppo troppo macchinoso nei movimenti sta iniziando a fare esordire gli acquisti ma come abbiamo detto anche sotto dei commenti dei voti del calcio mercato estivo è un parma che deve sperare che i giocatori che abbia preso siano giocatori che si integrino subito nel progetto dei crociati parma che perde 3 a 0 contro la roma parma che praticamente non ha mai messo in pericolo la roma 3 a 0 dopo la fine del primo tempo parma che comunque tra i lati positivi ha fatto esordire dal primo minuto giocatori come ciprienne che si è il giocatore forse con maggior appilla preso durante l'estate som e altri giocatori che comunque possono dare una mano ma ci vuole tempo in più è una squadra che non ha iniziato bene in campionato quindi la fiducia inizia già a mancare ma comunque il parma è una rosa che può puntare sempre sull'esperienza di alcuni giocatori che che sono già in serie a da parecchi anni vedi inglese anche se ha avuto molto infortuni vedi cornelius caramò seppi in porta bruno alves in difesa gaiolo jacoponi una squadra di tanti giocatori esperti sono almeno da due tre anni in serie a ma è anche una rosa che ha dei giocatori giovani quindi ovviamente è una rosa ancora che si deve conoscere ma ha tutto il tempo per stupire per smentire anche il nostro voto estivo che comunque non era stato molto alto voto 1 al torino al torino un dato ha perso 14 punti da situazioni di svantaggio se si contassero solo i primi tempi il torino sarebbe una sarebbe in questo momento qualificato in champions league se si contano solo i secondi tempi il torino sarebbe retrocessa peggiore squadra che ha perso punti da situazioni di vantaggio parità 14 punti sono tanti soprattutto anche questa partita contro in questa giornata contro l'inter una squadra che ha giocato bene i primi 45 minuti perché poi 60 minuti toro che ha giocato bene poi rispuntano i soliti problemi in difesa prendi un gol in tre minuti è preso in due minuti preso due gol e questo può fare male soprattutto sul morale della squadra perché dopo che prendi due gol in tre in due minuti ovviamente la battosta la senti poi comunque non giocavi contro una squadraccia giocavi contro un inter in cui se dai fiducia o spazio ai giocatori come lukaku lautaro poi vedi i risultati in campo torino ancora in questo momento sarebbe in zona di retrocessione torino che non è partito bene ma comunque ha dei lati positivi da tenere ma soprattutto da lavorare sulla testa dei giocatori voto due al napoli napoli che come abbiamo detto anche negli scorsi episodi quando c'è da dimostrare sbaglia sempre questa partita l'ha persa con il minan partita che tranne in alcuni momenti nel secondo tempo il napoli non ha mai rischiato di metterla seriamente in di nuovo in gioco perché comunque è arrivato il gol del del 2 a 1 ma poi è stato espulso baccaiocco napoli che quindi si dimostra la solita squadra che quando deve dimostrare qualcosa poi non riesce mai a a dimostrarlo perché non si sa perché ma bisogna lavorare sulle capacità perché comunque una squadra che ha un una rosa che può lottare per i primi posti voto 3 al crotone crotone ancora ultimo non ancora vinto questa partita non abbiamo deciso di dargli un voto molto basso perché si è giocato in situazioni veramente molto critiche campo che sembrava una piscina crotone che ha perso 1 a 0 contro la lazio crotone che non gioca ma la calcio ma manca un attaccante che ti faccia gol perché hai simi e messias che non fanno gol vedi la partita contro il torino che non si sono resi mai pericolosi anche se comunque le occasioni potevano averla il torino in questo momento una squadra che rischia una retrocessione quindi una rivale diretta del crotone questa partita con la lazio si è rischiato era una partita che il crotone non pensava di vincere ma poteva vincere perché si è giocato su un campo in cui la qualità dei giocatori della lazio non si vedeva perché ma contava soprattutto la grinta e la voglia di mettere il piede nei contrasti e quindi il crotone ha perso questa partita che poteva essere un'occasione per vincere dare morale alla rosa che in questo momento è l'unica squadra in serie a che non ha ancora vinto voto 4 al cagliari cagliari che ha giocato contro una juve una buona juve ma un cagliari che non ha attaccato non ha fatto ha tirato forse un tiro in porta cagliari che fa un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni soprattutto male i due giocatori che nelle ultime partite hanno dato di più come simeone giao pedro cagliari che comunque anche stato falcidiato da alcune assenze importanti come a centrocampo nandez come in difesa godin ma è un cagliari che può giocare bene soprattutto perché è un mister che è in grado di far giocare bene le squadre perché quando è stato chiamato in causa tra l'ultima esperienza la sampdoria le squadre hanno sempre giocato bene ovviamente quest'anno col cagliari non ha potuto utilizzare il suo modulo il 4 3 3 ma col 4 3 1 2 4 3 2 1 comunque i giocatori che ti possano fare la differenza come già o pedro che uno dei migliori per rendimento nelle ultime due stagioni voto 5 all'ellas anche quando abbiamo acceso di dare un voto più basso perché l'ella è stato molto sfortunato nell'ultima partita quattro legni colpiti ellas che ha giocato bene ma conta soprattutto i punti giocavi contro un sassuolo che in un momento di forma strepitoso ma è un ellas che abbiamo deciso di dargli 5 non è un'insufficienza grave ellas che continua a giocare bene ellas che però manca sempre questa volta anche con la sfortuna ma mancano i gol degli attaccanti gli attaccanti non segnano kalinic non è ancora entrato nelle rotazioni nel gioco di squadra che ha contraddistinto l'ellas verona nell'inizio di questa stagione e nella stagione scorsa di carmine sembra ormai essere un po più fuori progetto e quindi l'ellas manca un attaccante adesso kalinic sia anche infortunato quindi vedremo se juric tenterà di nuovo la carta di carmine oppure passerà a un oppure metterà salcedo oppure passerà a un attacco senza attaccanti come è successo a volte l'anno scorso con zaccagni farsa punta l'anno scorso verre e altre situazioni del genere voto 6 alla lazio che come abbiamo già detto anche precedentemente con cortone vince non giocando bene perché era impossibile giocare bene in un campo in quelle condizioni ma è un una lazio che vince 1 a 0 fa un gol immobile fa gol correa vince 2 a 0 quindi una lazio che ha giocato non bene ma una lazio che porta a casa tre punti importanti per il suo obiettivo che la champions league voto 7 alla juve juve che ha giocato bene è tornato a giocare bene dopo l'altra partita che secondo me quest'anno ha giocato bene in campionato che quella contro la sampdoria la prima juve che non concede niente al al caiari juve che ha dominato praticamente tutta la partita grande prestazione di ronaldo hanno giocato bene molti giocatori il rientro di dritte si è notato in difesa come si ha giocato bene anche bernardeschi che è stato rinvigorito dalle chiamate nazionali ma è una juve che ha giocato bene si vede il solito giocatore ronaldo che si mette in mostra e quindi la juve se continua su questa strada può essendo già la favorita perché comunque una squadra che vince 9 campionati di seguito non può non essere la favorita per per quest'anno è partita peggio ma è una juve che ha avuto tante difficoltà vedi l'assenza di ronaldo vedi l'assenza di delitti fino a questo momento adesso in difesa di nuovo contata perché ha molti infortuni bonucci chiellini dei miralle secondo me poi nel mercato di gennaio passa giocando praticamente quasi sempre con una falsa difesa 3 falsa difesa 4 servirà un altro difensore centrale perché chiellini ormai alla sua età non è più affidabile anche se resta uno dei migliori in difesa voto 8 alla roma roma che è anche lei una sorpresa di quest'anno perché gioca bene gioca un calcio spettacolare chiude la partita meno di 45 minuti la mette tra zero michi tarian giocatore veramente in forma srepitosa il primo gol è uno spettacolo il primo gol di michi tarian segno anche borca majoral ma una roma che ha costruito una rosa ha costruito una buona rosa in estate adesso anche la roma in difficoltà in difesa perché ha tanti infortuni ma è una roma che dal centrocampo in suo risulta essere una squadra imprevedibile perché giocatori come michi tarian che come ho detto anche in precedenza è un giocatore che sta facendo il centrocampo da solo ai giocatori come pedro che fino ad ora ha giocato sempre bene ai giocatori come jack in attacco che comunque un giocatore che è 10 15 gol alla stagione te li fa sempre borca majoral che è un buon prospetto perché comunque scuola reali il real non l'ha preso per caso anche se poi non ha mai giocato in modo continuo al real ma è una roma che può essere una buona squadra e può essere anche la sorpresa soprattutto in un campionato così incerto e così strano per molti motivi voto 9 al milan che non si ferma milan che vince ancora vince meritatamente contro il napoli tanta assenze soprattutto in panchina dove non c'era nessuno dei due mister ed è stato scelto come mister di interim bonera milan che gioca bene soprattutto perché è una squadra che ha trovato equilibrio una squadra che magari come individualità è molto inferiore rispetto al napoli che ha affrontato e alla juve che ha che praticamente ha vinto gli ultimi nove scudetti ma è un milan che gioca molto più di squadra perde una palla che ne so che si torna e si fa tutto il campo per difendere è una squadra che è molto unita e questo si vede anche sul campo milan che vince tra uno rimane prima superando nuovamente sassuolo che è la squadra cui noi abbiamo deciso di dargli 10 questa giornata sassuolo che è stato dato più 10 non per la prestazione perché comunque come ha giocato contro l'ellas ma è un ellas che ha rischiato più volte di andare in parità di vincere ha preso quattro legni ma sassuolo che si dimostra una grande squadra perché ha avuto poche occasioni ma ha vinto anche con un po di fortuna è tornato bogacca ha fatto un gol come sempre i suoi gol non sono mai banali fa ancora gol berardi che in un momento anche lui come bernardeschi di forma sassuolo che vince è stata prima per alcune ore ma è un sassuolo che sta dimostrando di essere una buona squadra ma ovviamente dubito che il sassuolo riuscirà a vincere lo scudetto anche se non si sa mai però è una squadra che quest'anno potrebbe essere la vera sorpresa perché è un campionato in cui ci sono molte squadre con una classifica molto corta è un campionato in cui ci sono squadre che sono un po in difficoltà anche perché comunque adesso in questo mese di dicembre giocheranno tante partite come le squadre che sono impegnate in Champions in Europa quindi un sassuolo che magari in questo mese potrà non essendo impegnato in nessuna delle due competizioni potrà continuare a vincere non avendo problemi di rotazione mentre altre squadre come Juve, Inter, Roma e le altre qualificate avranno questi problemi di rotazione, di infortuni, di protocolli UEFA stringenti, di trasferte e tutte altre cose che possono contare poi sui punti in campionato e sulle prestazioni che la squadra affronterà. Detto questo vi ricordo di lasciare like a questo video prossima settimana ci vediamo con il pagellone della nonna giornata presto ci sono delle novità molto importanti sul canale su un video che è molto importante andate a seguirci su Instagram calciomercatonostopseria il link è sempre in descrizione e detto questo noi ci vediamo la prossima settimana ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti